Musica Allora, il corso di Pabri Sfinghi si è stato il più vecchio del corso, per modo di dire. Come è andata? Raccontaci. Allora, la giornata è andata grande, sono divertito, ho imparato cose nuove, cose che non avevo mai saputo, mai sentito dire da altra gente. E ho trovato dei compagni un po' più grandi di me, ma molto uniti contro questo nemico dell'oratorio. Mi sono divertito molto e vi auguro il meglio. Grazie mille! Grazie mille!